Al campo Zappacosta di Manopello iniziata oggi l'era di Gennaro Iezzo sulla panchina del Chieti. Il 50enne ex portiere di Napoli e Cagliari in Serie A e il nuovo allenatore dei Neroverdi subentra a Mauro Chianese esonerato a sorpresa dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato di andata in casa contro il Matese. Iezzo ha parlato con la squadra prima di iniziare la seduta di allenamento, un colloquio anche con il direttore Sartiano per fare il punto sulle trattative di mercato, poi un discorso davanti alla panchina in cui ha detto quali sono i due concetti fondamentali su cui il suo Chieti dovrà imperniare il girone di ritorno, aggressività nell'andare alla ricerca del pallone, personalità nella gestione del pallone. Poi si è rivolto in particolare ai giovani della Rosa Neroverde, ha detto questa per voi deve essere una grande occasione per dare un senso alla vostra carriera, coltivate il vostro sogno, andiamo fino in fondo a questo percorso per cercare di vincere questo campionato. Questo è il senso della lunga chiacchierata con la squadra, poi tutti in campo, ripresa degli allenamenti. Nel frattempo il direttore Sartiano si è intrattenuto a parlare con Dancora, infortunato, non ha lavorato e ovviamente continua. Le trattative di mercato in Neroverdi sono alla ricerca di un attaccante importante. Si parla di Brian Perea, 30 anni, ex della Lazio e del Perugia in Serie A e in Serie B, ma anche di Maletic dalla Serie A a Macedone. In arrivo anche un centrocampista, il croato Vridoliac, con diversi anni di esperienza nella Serie C italiana. A Manoppello l'allenamento sta per terminare. Domani pomeriggio all'Angelini, Gennaro Jezzo, si presenterà alla città e ai tifosi all'ambiente con una conferenza stampa ufficiale.